Crisi economica, divari sociali sempre più accentuati e crisi familiari sono la base della formazione di nuove fasce di povertà della nostra società. Padri separati, disoccupati e anziani che non riescono ad arrivare a fine mese sono sempre in numero crescente. In previsione della seconda giornata mondiale dei poveri la Caritas Diocesana attraverso la pubblicazione di un report sintetico presenta un resoconto dei bisogni incontrati e dei progetti e risorse attivate nel corso del 2017. Un anno particolarmente impegnativo con un aumento delle richieste della gravità e complessità delle situazioni incontrate che solo un'organizzazione capillare come la Caritas riesce ad affrontare, come ci dice Angelo Farnetti, il direttore della Caritas Diocesana. Una società piuttosto in crisi, con tante difficoltà, in cui sono andati ad aumentare le fragilità familiari, in cui c'è un grande disagio lavorativo, abitativo e in cui c'è un aumento delle dipendenze anche nuove come quella della ludopatia, in cui ci sono davvero l'aumento anche dei disturbi mentali, soprattutto da parte di quelle persone che hanno una più grave emarginazione e poi davvero una povertà anche economica perché la disoccupazione ha colpito davvero pesantemente le famiglie e anche quelli che hanno uno stipendio non sempre riescono a starci dietro. Inoltre accanto a questo fenomeno di povertà c'è anche l'aumento del fenomeno migratorio che comporta poi con tutte le tensioni che genera e soprattutto con tutte le emarginazioni che genera e le sofferenze in queste persone che vengono sempre più numerose. Grazie alle risorse elargite da benefattori, fondi CEI 8x1000, fondazioni e banche si è fatto fronte alle situazioni di povertà incontrate, in gran parte cronicizzate. Nel 2017 non solo sono stati portati avanti servizi tradizionali come ascolto, aiuti economici, pacchi cibo, prestiti ma anche tirocini formativi per la ricollocazione nel mondo del lavoro ma anche progetti tuttora in corso su cibo, casa, lavoro e salute. Per sostenere tutte queste attività sono stati spesi circa 625 mila euro di cui quasi 412 mila solo per la promozione umana.